Assessore, che cosa non ha funzionato in questa prima mattinata di collaudo di questo nuovo servizio? Allora, innanzitutto diciamo che i pulmini sono partiti e sono partiti dei pulmini nuovi con personale a pieno regime come organico e questi erano gli elementi che purtroppo sono mancati giovedì scorso. Come primo giorno di attività del servizio di trasporto scolastico chiaramente ci sono state una serie di deficienze che noi per primi abbiamo registrato anche questa mattina e nelle ore immediatamente successive in alcune zone ci sono stati dei problemi proprio nel passaggio delle vie, ci sono state molte altre situazioni in cui si sono accumulati dei ritardi sia all'andata che al ritorno, questo in virtù anche non solo della novità dei percorsi che abbiamo dovuto completare grazie anche alla segnalazione di cittadini, di dirigenze scolastiche oltre all'osservazione diretta dei nostri funzionari ma dovuta probabilmente anche a un deficit di programmazione della ditta ditta la quale ricordiamo al Comune di Fano richiederà i danni e lo richiederà anche per affrontare una situazione non solo di disagio per i cittadini ma anche per l'amministrazione comunale stessa. Da questo punto di vista una cosa che voglio dire in maniera molto chiara a titolo informativo a tutte le famiglie coinvolte è che l'amministrazione comunale di Fano si impegna chiaramente a non far pagare la retta del trasporto scolastico a tutte quelle famiglie che in questi giorni hanno dovuto subire disagio e difficoltà legati alle mancanze della ditta e questo è un impegno che come amministrazione comunale ci pare corretto e doveroso fare.